Buonasera, buonasera anche dal TGN, benvenuti a questa edizione. La nuova moschea di Via Esterle, di cui si parla ormai da diverso tempo, deve superare un altro, un ennesimo ostacolo. Infatti si tratta del problema dei parcheggi, perché quelli progettati non bastano rispettare ciò che è previsto dalla legge regionale proprio sui luoghi di culto. Sentiamo Paolo Pirovano. Slitta l'inizio dei lavori della nuova moschea di Via Esterle, che sorgerà in zona Parco Trotter a Milano. La Casa della Cultura Musulmana, l'associazione che ha vinto il bando comunale per la concessione trentennale, deve risolvere il problema dei parcheggi. La legge regionale impone infatti la realizzazione di mille metri quadrati di posti auto per un luogo di culto di 500 metri quadrati. La moschea, che non avrà un minareto, sarà di 800 metri quadrati e il parcheggio sottostante sarà di 900, che però non bastano per rispettare la legge regionale. Ci vogliono 1600 metri quadrati. La soluzione potrebbe essere quella di prevedere un secondo piano di parcheggio sotterraneo, ma i costi di realizzazione a carico della Casa della Cultura Musulmana crescerebbero troppo. Dopodomani, mercoledì 5 giugno, il presidente della Casa della Cultura Musulmana, Mahmoud Asfah, incontrerà il direttore del settore mobilità del comune proprio per capire come individuare i parcheggi che mancano. Finché questa superficie per la sosta non sarà individuata, il progetto della nuova moschea di via Esterle non potrà avere il via libera definitivo dal comune. Nel frattempo, però, una mozione approvata dal Municipio 2 prevede che i posti auto lungo via Esterle diventino a spina di pesce per recuperare i parcheggi persi nel tratto di via Padova, compreso tra via Giaccosa e via Anacreonte, una soluzione viabilistica adottata anche in previsione della futura moschea. La comunità musulmana è consapevole della problematica e sta attivamente cercando soluzioni in collaborazione con le autorità competenti per rispettare le normative e minimizzare l'impatto sulla viabilità del quartiere. Ancora urbanistica in primo piano perché entro fine mese il gruppo WeBuild presenterà il progetto per la ristrutturazione del Meazza. Il sindaco Sala è preoccupato per l'intenzione dei due club di realizzare due impianti fuori Milano e intende proprio per questo incontrare al più presto i nuovi proprietari dell'Inter. E secondo Sala due stadi nel Parco Sud sono irrealizzabili. Sentiamo. Il sindaco di Milano Beppe Sala vuole a tutti i costi che Milano e Inter restino allo stadio Meazza. I due club verso due impianti nell'Interland e San Siro senza il calcio sarebbe insostenibile per il comune. E quindi il primo cittadino ha detto che due impianti così vicino a San Donato e Rozzano all'interno del Parco Sud non possono coesistere. Problemi di traffico, problemi ambientali e forti preoccupazioni per il destino del Meazza. Tuttavia Sala non tiene conto delle numerose capitali europee che hanno più stadi a distanze ravvicinate. Probabilmente Sala ha capito che entrambe le società puntano ad avere un proprio stadio di proprietà e le sue preoccupazioni sul futuro del Meazza si sono moltiplicate. Oltretutto col vincolo della sovrintendenza sul secondo anello non è nemmeno ipotizzabile che si possa procedere con una ristrutturazione pesante di tutto l'impianto. Sul progetto, che sarà pronto a fine mese, ci sta lavorando WeBuild, ma quello che potrebbe non andare oltre un possibile macchiage certamente non accontenterà né i nerazzurri né tantomeno i rossoneri. La situazione sembra in un vicolo cieco. Nel 2026 San Siro ospiterà la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Sala vuole incontrare i nuovi proprietari dell'Inter, i rappresentanti del fondo OCTRI, per conoscere le reali intenzioni nella speranza di ottenere una promessa di restare al Meazza. E a questa preoccupazione del sindaco Sala ha risposto oggi pomeriggio in una nota a Lanza il Milan che dice il progetto del nuovo stadio a San Donato non trova alcuna incompatibilità con l'eventuale realizzazione dell'impianto dell'Inter a Rozzano. La distanza tra le due strutture sarebbe di 13 chilometri, precisa il Milan, mentre in città come Londra convivono addirittura otto stadi a distanze più ridotte. Inoltre l'area proposta del Club Rossonero è stata presentata su un'area privata ed edificabile. La zona, prosegue la società, non rientra nel Parco Agricolo Sud di Milano. Quindi non è vero che sarebbero due stadi all'interno dello stesso Parco Sud. E sempre sulla vicenda dello stadio è intervenuto oggi anche il presidente del Senato, Ignazio Larussa, che ha detto che sullo stadio il sindaco di Milano a Bepezala ha fatto dei pasticci infiniti. La politica è fatta per decidere, non per rinviare. Avrebbe dovuto subito dire che lo stadio di San Siro è un patrimonio e per questo non si può toccare. Cambiamo argomento, 47 residenti del quartiere di Gorla hanno presentato un esposto per chiedere lo sgombero del cantiere abbandonato di via Stamira d'Ancona, occupato da balordi e spacciatori. Oggi siamo andati, proprio siamo entrati, nell'area dove sorge il palazzo che non è mai stato ultimato. Sentiamo Paolo Pirovano. Uno scheletro di mattoni e cemento da tempo rifugio per senza tetto, sgomberato nelle scorse settimane e puntualmente rioccupato, come vedete dalle nostre immagini. Siamo entrati nella terra di nessuno tra via Petrocchi e via Stamira d'Ancona, di fianco al naviglio Martesana, zona via Lepadova, dove all'inizio di maggio un 27enne egiziano è stato accerchiato e colpito da un gruppo di uomini armati e poi abbandonato agonizzante sull'asfalto. Quest'ultimo è solo il caso più eclatante di una escalation di violenza e degrado che ha come epicentro questo edificio mai completato. L'operazione immobiliare aveva mosso i primi passi nel 2014 e nel 2017 fu regolata da una convenzione tra comune e cooperativa edificare per un intervento di edilizia residenziale sociale con l'obiettivo di offrire case a prezzi sostenibili. Una trentina di famiglie hanno contratto mutui, investito i loro risparmi e versato anticipi per partecipare all'operazione, ma nel 2021 i cantieri avviati si sono bloccati a causa della mancanza della liquidità necessaria. L'assessore alla rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi aveva anche incontrato gli acquirenti. A subire le conseguenze sono i residenti della zona che con un esposto firmato da 47 persone e presentato lo scorso aprile alla stazione dei carabinieri di Gorla, Precotto, chiedono interventi per garantire la sicurezza e porre fine alle scene che si svolgono quasi quotidianamente davanti alle loro abitazioni. La prossimità e il perdurare di queste fonti di disagio, scrivono i residenti, unita al fatto che la zona non è illuminata a dovere né tantomeno sorvegliata e pattugliata, rende molto difficile la convivenza delle persone civili che abitano il quartiere, frasi che riassumono l'esasperazione di chi abita nella zona e torna a sollecitare un intervento delle forze dell'ordine, della procura e del comune per mettere in sicurezza l'area. Cambiamo argomento, fu una concezione personale ed etica del diritto della salute a spingere l'ex direttore generale della sanità della Lombardia Carlo Lucchina ad impedire che Luana Inglaro fosse interrotto il trattamento che la manteneva in stato vegetativo. Lo scrive la Corte dei Conti che ha condannato in appello Lucchina a pagare all'erario circa 175 mila euro che la regione aveva dovuto risarcire a Beppino Inglaro che era stato costretto a trasferire la figlia in una struttura sanitaria in Friuli dove poi morì. Lucchina si difende, non è stata un'obiezione di coscienza ma sono state applicate le direttive arrivate anche dall'avvocatura regionale. A questo punto sta pensando se ricorrere in appello. Sempre sulla sanità la regione Lombardia ha approvato oggi in giunta due provvedimenti proposti dall'assessore Bertolaso finalizzati al potenziamento delle infrastrutture. Con la prima delibera vengono stanziati 128 milioni a favore di ATS e ASST Lombarde mentre il secondo provvedimento di 1 miliardo e 100 mila euro prevede la ripartizione di fondi nazionali su nove progetti per la realizzazione di presidi ospedalieri strategici. Tra questi anche Busto Arsizio, l'ospedale civile di Brescia e anche il padiglione per la neuropsichiatria infantile dell'ospedale Niguarda di Milano. Ora la cronaca. Sono stati arrestati a Milano due italiani di 51 e 53 anni accusati di essere truffatori che avevano utilizzato la tecnica del finto corriere per portare a termine i loro colpi. Con la tecnica del finto corriere truffavano le aziende e si facevano consegnare merce d'ingente valore. In realtà non era loro destinata per il trasporto. Due italiani di 53 e 51 anni sono stati arrestati per truffa in concorso dalla Questura di Milano. Le indagini sono partite dalla denuncia presentata lo scorso aprile dal responsabile di uno showroom in zona Brera che ha riferito agli investigatori di aver ricevuto una telefonata il cui interlocutore chiedeva se i colli da spedire fossero pronti per il ritiro e che, poco dopo, si sarebbero presentati due corrieri. Solo dopo aver consegnato ai due spedizionieri i pacchi contenenti merce del valore di oltre 30 mila euro, la vittima ha scoperto della truffa subita. Mercoledì mattina i poliziotti, verificata la presenza dei due uomini alloggiati in un hotel in Via Lulli, dopo averli visti uscire dall'hotel e salire a bordo di un furgone, li hanno seguiti fino a arrivare all'ingresso di un'azienda di cosmetici a Biassono, in provincia di Monza. Gli investigatori, mentre seguivano i due, hanno contattato il personale dell'azienda di cosmetici e dopo aver constatato la truffa appena consumata, li hanno fermati e arrestati a Lissone, recuperando tutta la merce nel furgone. Inoltre, a inizio maggio a Verona, gli agenti di polizia avevano fermato e indagato in stato di libertà i due uomini, entrambi con diversi precedenti a carico, per la tentata truffa commessa con la stessa tecnica del finto corriere e con le stesse modalità di quella realizzata a Milano nei confronti di un esercizio commerciale d'abbigliamento. Durante la scorsa notte la Polizia di Stato ha effettuato servizi di controllo notturno volti a frenare il fenomeno della guida sotto l'effetto di alcol e droga. Il bilancio è stato di 14 patenti ritirate. L'impianto preventivo ha permesso di controllare 50 persone, 11 delle quali sono state denunciate all'autorità giudiziaria. E a Milano la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino svizzero di 28 anni e un italiano di 22 per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. Gli agenti del commissariato Garibaldi Venezia hanno individuato i due in un appartamento in uno stabile di Biale Zara a Milano. Le piogge e il vento degli ultimi giorni a Milano hanno abbattuto una cinquantina di alberi. L'ultimo in ordine di tempo è caduto nel weekend, in questo weekend in zona stazione centrale. Vediamo. Il maltempo delle ultime due settimane ha abbattuto la memoria di 45 alberi di Milano. Eccoli giacere su un fianco, sopra le auto, in mezzo alla strada, le radici all'aria, le chiome del verde lucido che questa primavera generosa di acqua aveva donato loro. L'ultimo è crollato davanti alla stazione centrale in piazza 4 novembre venerdì scorso, un tonfo ha allarmato i presenti quando il grosso tronco con rami e foglie è atterrato su alcune auto parcheggiate. Era un bagolaro, Celtis Australis. Radici all'aria, in parchi, viali verdi, giardini di scuole e altri luoghi, fortunatamente senza ferire nessuno. Tra i casi più eclatanti quelli di via Solari e di via Marco De Marchi, in centro, ma anche quello dell'albero che precipitando ha rotto parte della recinzione dell'area verde di Piazzale Martini, o quello in via Foppa, che ha danneggiato alcune automobili. Nell'ultimo aggiornamento, quello del 9 maggio scorso, 28 alberi risultano compromessi, di cui alcuni al Parco Trotter. Il patrimonio arborio del Comune di Milano è costituito da oltre 248 mila alberi, di cui il 60% in parchi e giardini, il 29% in filari verdi e il rimanente nelle scuole o nelle aree di pertinenza degli edifici comunali. A questi si aggiungono quelli in aree boschive o gestite da altri enti, che portano il numero totale a 520 mila in città. La spesa annuale per la manutenzione ordinaria è di quasi 20 milioni di euro. Vigile del fuoco in azione a San Giorgio su Legnano in via Conte di Cavour al 17 per un incendio che ha colpito un appartamento e il tetto di una palazzina di due piani. Un uomo di 41 anni è rimasto ferito e trasportato in codice giallo all'ospedale di Legnano dopo aver respirato i fumi derivanti dalla combustione. Non si registrano altre persone coinvolte. I sei mesi del comando di via Messina hanno proceduto poi alla bonifica dell'area e alla verifica dell'edificio. Con 147 milioni di incasso Milano segue Roma tra le città con maggiori incassi per le multe al codice della strada. Lo sostiene il Codacons che chiede che fine abbia fatto l'osservatorio sulle multe stradali previsto da una legge ma poi mai entrato in funzione. Milano è la seconda città italiana per incassi legati alle multe stradali, ben 147 milioni di euro contro gli oltre 172 della capitale che svetta al primo posto. I proventi nell'ultimo anno nel capoluogo Lombardo sono scesi del 3% rispetto al 2022. Lo sostiene il Codacons che ha calcolato che nel 2023 nelle 20 maggiori città italiane sono stati incassati complessivamente quasi 585 milioni di euro per violazioni al codice della strada. Dopo Roma e Milano ci sono Firenze e Bologna. Se invece si esaminano in particolare le contravenzioni combinate attraverso autovelox, allora è Firenze la città con i maggiori incassi pari a 18,7 milioni di euro contro gli 8 milioni e mezzo di Milano e i 7 milioni e mezzo di Roma. A Firenze si è raggiunta la cifra di 123 euro a residente, a Milano di 107 euro. Complessivamente i proventi derivanti dalle multe sono aumentati di oltre 37 milioni di euro lo scorso anno. Pare a un cremento di quasi il 7%, ha sottolineato il Codacons. Potenza è la città con il maggior aumento con incassi praticamente raddoppiati. 9 città su 20 registrano invece una diminuzione degli introiti. Il Codacons chiede quale fine abbia fatto l'osservatorio sulle multe stradali previsto da una legge del 2023, ma del quale non si hanno più notizie. Ancora polemiche sui divieti del Comune di Milano per contenere la mala movida. Questa volta a parlare è il segretario generale di Confcommercio Marco Barbieri che dice il provvedimento è contraddittorio perché in realtà i Deora aiutano a contenere le persone e quindi anche gli schiamazzi. L'alternativa, dice Barbieri, è il divieto di consumo di cibo e bevande sul suolo pubblico a partire da un certo orario, come succede negli Stati Unita. Questo accanimento di Palazzo Marino verso le ordinanze si spiega difficilmente, dice Barbieri. Servirebbero invece più controlli sugli alcolici per strada. Sabato e domenica si vota per le elezioni europee e a Milano il Comune è a caccia di scrutatori. Ricordiamo che Milano ne deve reclutare 4.992 e c'è tempo fino a giovedì 6 giugno per presentare la propria candidatura. Per potersi candidare è necessario essere maggiorenni e possedere la cittadinanza italiana. C'è anche da dire che purtroppo ancora oggi il centro funzionale monitoraggio rischi naturali della regione di Lombardia ha emanato ancora un'allerta meteo per criticità gialla per temporali a partire dalle 12 di domani martedì 4 giugno. Cambiamo argomento presso la Pinacoteca Ambrosiana con gli interventi tra gli altri del segretario di Stato il cardinale Piero Parolin e dell'arcivescovo è stato presentato il volume dedicato a Bernardino Nogara l'inventore per così dire dell'amministrazione delle finanze della Santa Sede. Sentiamo Anna Maria Braccini. Ingegnere, uomo d'affari, cattolico, finanziere, banchiere di Banca Comit, tecnocrate internazionale, uomo del Vaticano. Bernardino Nogara nato nel 1870 a Bellano da una famiglia dalla fede saldissima e con molti legami nella società bene milanese e morto nel 1958 fu tutto questo in un lungo periodo di profonde trasformazioni che va dall'Italia giolittiana alle soglie del boom economico e se il suo nome oggi forse dice poco ai più la sua figura continua a rimanere un esempio di onestà, integrità, fedeltà allo Stato e al papato dopo che più un decimo Achille Ratti lo scelse per amministrare i beni della Santa Sede. In carico delicatissimo e pionieristico che svolse per 25 anni vissuti nel palazzo del governatorato Vaticano e al servizio dell'Italia e del Papa si intitola appunto il volume di Angelo Calecca dedicato proprio a Bernardino Nogara presentato presso la biblioteca Pinarcoteca Ambrosiana alla presenza dell'arcivescovo e del segretario di Stato Vaticano il cardinale Pietro Parolin. Le finanze vaticane oggi godono di buona salute? Possiamo dire che appunto ripeto quello che ho detto cioè che da parte del Papa c'è stato un grande sforzo ecco per come dire mettere rimettere in ordine le finanze vaticane. E se si è parlato di una calata dei Longobardi a Roma con più un decimo Papa Brianzolo questa certamente come ha notato l'arcivescovo non può che aver dato gloria alla Santa Sede. Lui che ha ripensato l'organizzazione delle finanze vaticane per quello che io riesco a capire è stato determinante. Vi ricordo dopo questo telegiornale la striscia quotidiana alla chiesa nella città oggi a cura di Anna Maria Braccini che questa sera propone un servizio più ampio sulla presentazione del libro dedicato a Nogara con l'integralità delle interviste realizzate alla presentazione. Con questo è tutto mi fermo qui vi ringrazio per la vostra attenzione vi auguro una buona serata arrivederci.